Approvato oggi in Regione Lombardia il bando protezione famiglia. 32,4 milioni di euro a disposizione delle famiglie più in difficoltà. Dopo un anno così difficile, per le famiglie che hanno subito una compressione del reddito e con a meno un figlio minore, sarà possibile accedere ai fondi messi a disposizione da Regione Lombardia.